Ciao! In questo video vediamo la bellissima Amalfi dal mare. Hi! In questo video vediamo la bellissima Amalfi dal mare. Vedere Amalfi dal mare è sempre un bello spettacolo. Amare Amalfi dal mare sempre ci dà una vista bella. Arrivare in barca ad Amalfi non è solo bello ma anche molto comodo perché arrivi a pochi passi dal centro dove puoi vedere il Duomo più da vicino. Scegliere tra un ottimo gelato e una super granita a limone o semplicemente fare shopping in uno dei meravigliosi negozi del centro. Arriving by boat in Amalfi is not only beautiful but also very comfortable. You can reach the center of Amalfi with only few steps to see the cathedral more closely. Choose between excellent ice cream and a super lemon granita or go shopping in one of the beautiful shops you can find the beautiful shops you can find here. iscriviti al mare a come author and love to alberto. I I Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedi, la fermata dell'autobus è proprio davanti al porto, quindi da qui puoi muoverti facilmente in pulma per raggiungere località come Positano e Ravello, ad esempio. Come potete vedere, il posto è proprio davanti al porto, poi da qui puoi via facilmente per bus per raggiungere località come Positano e Ravello. Perché la spiaggia è proprio qui di fianco al porto ed al centro. The beach is also right here next to the port and the center of Amalfi. Ora dobbiamo solo scegliere cosa vogliamo visitare. Nel frattempo ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!